benvenuti nel sesto capitolo il più corposo della geografia italiana per stranieri dell'editore di lingua è corposo ma come voi sapete in tutta la collana di cultura italiana ci sono anche tantissimi testi supplementari online gratuiti quindi sia messi a livello b2 cioè adattati a livello di chiusa più o meno questo libro b1 b2 sia con il link alla versione originale del saggio dell'articolo in modo che ciascuno che se vuole possa confrontare la sua comprensione con un testo adattato al livello b1 b2 e poi vedere quanto riesce ad affrontare il testo originale ci sono anche delle schede di valutazione come in tutti i capitoli di autovalutazione una cosa la valutazione che fa l'insegnante ma gli studenti di questi libri sono ormai giovani adulti per cui ciascuno deve auto valutarsi dicevamo che questo è il capitolo più corposo perché raggruppa le regioni del centro verso il nord d'italia cioè la toscana e le marche l'umbria che è giusto al centro d'italia il lazio e l'abruzzo ricordandoci che ci sono anche due stati autonomi due piccoli stati san marino sopra rimini quindi nella parte delle marche che ancora culturalmente linguisticamente fanno parte della romagna e lo stato della città del vaticano c'è stato uno stato della chiesa per 1500 anni in italia ma nel 1870 il regno d'italia ha conquistato roma e quindi i papi si sono rinchiusi per alcuni decenni quasi auto imprigionati in vaticano e poi nel prima parte del ventesimo secolo nel 1929 è stato fatto un trattato tra la repubblica allora era regno d'italia e il vaticano che ha riconosciuto l'italia ha riconosciuto come stato indipendente il più piccolo stato del mondo che però ha un enorme indotto economico come vedremo perché roma è una grande città turistica perché c'è tutto il mondo romano e c'è tutto il mondo soprattutto barocco ma anche perché c'è la sede della chiesa cattolica ora questa parte d'italia dal punto di vista del territorio è spesso di una bellezza mozzafiato le colline toscane le colline umbre le marche sono luoghi di una bellezza totale molto collinari quindi molto ondulate e si vede che sono 3000 anni che gli uomini arano quei terreni per cui le colline sono diventate dolci morbide ovviamente nella parte centrale ci sono anche montagne molto alte molto impervie ma rimane un luogo di una bellezza unica ed è incredibilmente piena di tracce lasciate dagli uomini tracce del mondo etrusco mondo che ancora è vivo a perugia davanti all'università per stranieri c'è la porta sulle mura della città ma è una porta costruita ben prima di cristo dagli etruschi ci sono resti di ogni secolo c'è stato un grande momento in cui nascevano i monasteri gruppi di cattolici di cristiani a quel tempo non c'era ancora stata la separazione come san francesco come san benedetto creavano conventi ma sono ancora lì è pieno di chiese romani che cioè semplicissime spoglie senza marmi senza niente ma è anche pieno delle ville dei cardinali dei duchi dei grandi borghesi ricchi del 4 5 e 600 quindi costruzioni di una bellezza frutto di una ricchezza inimmaginabile pensate che una regione non tanto grande neanche tanto abitato come le marche ha più di 450 teatri costruiti tra rinascimento il settecento poi ovviamente ci sono le città d'arte due delle grandi città d'arte cioè firenze ma anche siene pisa e roma dal punto di vista economico il grande problema di tutta quest'area è quello delle infrastrutture le ferrovie tra adriatico e tirreno sono ancora scadenti le autostrade non sono ottimali c'è ancora molto da fare e soprattutto se si esce dalle autostrade dalle ferrovie principali le ferrovie secondarie le strade secondarie sono ancora povere piene di curve strette passano dentro i paesini dentro i borghi per cui in realtà molto c'è ancora da fare perché il potenziale soprattutto dell'agricoltura dell'allevamento in queste regioni dia il massimo e soprattutto perché nel mondo digitale in cui non importa essere in una fabbrica per lavorare guadagnare lo stipendio sia possibile che tutti questi paesi dalla vita dolcissima meravigliosi dove la vita costa anche molto poco vengano abitati da persone che lavorano a distanza che producono software che fanno servizi l'altro grandissimo problema è che lungo i fiumi lungo il tevere ma soprattutto lungo l'arno cioè il fiume centrale della toscana sono state costruite delle zone industriali delle periferie enormi che non solo deturpano il paesaggio ma che rendono la vita molto meno piacevole di quello che potrebbe essere infine questo riguarda soprattutto roma roma è nata come capitale di uno stato centralizzato quindi tutto era a roma quindi è una città che in qualche modo vive molto di impiegati di persone che lavorano nei ministeri nelle sede centrali delle grandi aziende internazionali e poi una massa di turisti che non si riesce a gestire quindi come sempre c'è il grande pro e tanti contro il grande pro è fuori dalle periferie e fuori dalle città industriali delle parti industriali un territorio tra i più belli che esistano al mondo una quantità di città con centri storici che sono patrimoni dell'umanità secondo l'unesco città dove la quantità di arte è praticamente inimmaginabile se uno non ci va e non ci resta giorni ma con molti problemi ancora da risolvere vi ringrazio dell'attenzione vi auguro buon viaggio nel centro dell'italia e ci vediamo quando affronterete il sud e le isole